E' stato il primo martire cristiano e proprio per questo viene celebrato subito dopo la nascita di Gesù. Il 26 dicembre infatti è la giornata dedicata a Santo Stefano, una giornata particolare che permette anche di trovare un'ispirazione nuova per un messaggio di augurio e di monito del vicario della diocesi di Andia, Canusemi Nervino, Don Gianni Massaro. E tra l'altro la Chiesa quest'oggi ci fa proprio celebrare la memoria di Santo Stefano, primo martire. Allora io penso ai tanti martiri di oggi, i martiri della fede ma anche i martiri della violenza, dell'abbandono umano. E mi pongo una domanda, perché Dio è venuto in questo mondo? Per quale motivo è venuto magari a condividere sì certamente le gioie ma anche tante brutture che sono presenti? Perché Dio si è fatto uomo? Porsi delle domande non è sinonimo di mancanza di fede, bensì significa porsi dinanzi a Dio con tutta la propria dignità umana. Anche la Madonna, quando l'angelo le ha chiesto di divenire la madre del Salvatore, ha posto una domanda. Com'è possibile? Non conosco uomo. E allora perché Dio si fa uomo? Per tanti anni la teologia ha risposto dicendo che Dio si fa uomo per redimerci, per salvarci, per offrirci il suo perdono. Io penso che questa risposta sia insufficiente. Dio in realtà si fa uomo esclusivamente per donare se stesso, per amarci, per donarci il suo amore. Vi dono la mia vita perché l'abbiate in abbondanza, ci dice Gesù. La fede non è mai sottrazione, è sempre addizione. Il Natale è l'epifania proprio dell'amore di Dio e Dio viene a trovarci laddove noi siamo per donarci una carezza, per donarci una speranza, per donarci amore. Ecco perché il Natale riaccende sempre una luce, riaccende una speranza, perché Dio non si ferma mai dinanzi ai nostri limiti, va sempre oltre. Dio viene a trovarci laddove noi siamo. Il grande dramma della religione umana è quello di aver separato il Dio del culto dal Dio della vita. Dio viene a trovarci laddove noi siamo. Se pensiamo di poter incontrare Dio solo nel Tempio, solo in Chiesa, ci siamo sbagliati. Non abbiamo mai incontrato il Dio di Gesù Cristo e quando ci sbagliamo su Dio noi corriamo il rischio davvero di sbagliarci su tutto. Allora il Natale ci restituisce quella che è l'immagine più vera di Dio, un Dio che si fa uomo, che si fa bambino, un Dio che è amore e che viene a trovarci laddove noi siamo e ci seduce perché Dio utilizza il linguaggio della gioia. Gioisci, dice l'angelo a Maria, non dice in ginocchia ti prega, bensì rallegrati. Ed è il linguaggio della gioia che Dio usa con ciascuno di noi. Ma il Natale ci indica anche uno stile ben preciso che tutti quanti noi siamo chiamati ad assumere, che è lo stile dell'amore. Facciamo in modo che l'amore entri nelle nostre case, nelle nostre famiglie e sarà davvero ogni giorno Natale. Mai l'orgoglio, mai il denaro, mai il potere devono diventare lo scopo della nostra vita e della nostra esistenza. Allora permettetemi di concludere con le parole di Don Tonino Bello, di cui quest'anno ricorre proprio il venticinquesimo anniversario dalla sua morte. Tanti auguri scomodi, miei cari fratelli. Gesù che nasce per amore vi dia la nausea di una vita egoista, assurda, senza spinte verticali e vi conceda la forza di inventarvi un'esistenza carica di donazione, di preghiera, di silenzio, di coraggio e di amore. Buon Natale a tutti!